Grazie, Presidente. Presidente, io intervengo perché è palese che questo disegno di legge che noi stiamo andando ad approvare è frutto di un lavoro fatto nelle commissioni, fatto anche sulla spinta del Presidente della Commissione Bilancio, perché mi dispiace dirlo, Presidente, e magari lei si può fare portavoce nei confronti del Presidente della Regione. Questo disegno di legge che ha articoli che riguardano anche categorie differenti è stato sposato, o comunque tutti i componenti dell'Assemblea regionale siciliana hanno lavorato nelle commissioni e poi in Aula per cercare di dare delle risposte a cui, così come hanno detto altri colleghi, siccome c'è stato un governo che dall'altra parte, mi dispiace dirlo, era impegnato con la campagna elettorale per le europee, noi non sappiamo se gli articoli che verranno approvati in questo disegno di legge, una volta divenuta legge, daranno quelle risposte che le categorie oggi si aspettano. Questo percorso, Presidente, non può continuare in questo modo, cioè non si possono scaricare le responsabilità su cose importanti per quanto riguarda i rifiuti, per quanto riguarda una partecipata importante come l'Ast, per quanto riguarda gli agricoltori, non si può scaricare o non si possono scaricare le responsabilità in maniera continua all'Assemblea regionale, perché oggi tutta la deputazione, nessuno escluso, ha fatto sì che questo disegno di legge approdasse in Aula e oggi venisse votato, senza la presenza del Presidente della Regione e senza un'unione di intenti da parte del Governo, perché all'interno del Governo non c'è un'unione di intenti, anche nelle soluzioni delle singole categorie. Allora, Presidente, io le chiedo, noi con il mio gruppo adesso andrà a votare, siamo qui presenti in maniera responsabile, voteremo e voteremo contro questo disegno di legge, perché noi non siamo sicuri che gli articoli che sono stati proposti dal Governo, perché il Governo che ha proposto queste misure, possono dare effettivamente le risposte che chiedono le varie categorie. Però, Presidente, lei si deve fare portavoce nei confronti del Presidente della Regione, perché questo andazzo non può continuare, cioè noi non possiamo andare avanti in questo modo, non possiamo andare avanti con degli articoli su categorie differenti che vengono buttati nelle commissioni, che vengono buttati in commissioni e bilancio, dove spesso non c'è nemmeno l'assessore, dove poi in aula non c'è nemmeno il Presidente della Regione che viene qui a spiegarci che questo è un disegno di legge emergenziale per alcune categorie. Noi siamo presenti, siamo stati presenti nell'arco delle scorse settimane, nonostante la campagna elettorale, perché eravamo tutti in campagna elettorale, il Governo è stato assente. Il Governo è stato presente solo con alcuni assessori e, mi dispiace dirlo agli assessori che sono presenti, non c'è stata un'unione di intenti, una visione univoca da parte del Governo. Perché nel frattempo che l'assessore alle infrastrutture magari mi raccontava una cosa mi portava una visione, l'assessore al bilancio me ne portava un'altra, l'assessore alle energie e rifiuti un'altra ancora e in tutto questo il Presidente della Regione è assente. Tutto questo non può continuare, Presidente, e quindi le chiedo di farsi portavoce, perché questo è l'ultimo disegno di legge che viene portato nelle commissioni e in aula in questo modo. Noi non possiamo continuare ad avallare un Governo regionale che lavora solo ed esclusivamente con le emergenze. Noi ci aspettiamo le riforme, noi ci aspettiamo provvedimenti seri per quanto riguarda le categorie e non articoli buttati qua e là che arrivano in commissioni, magari con un emendamento del Governo o che arrivano in aula con sempre l'emendamento del Governo e con le opposizioni che poi devono cercare in qualche modo di essere responsabili. Così non può funzionare, ma non può funzionare non solo per l'Assemblea, Presidente, ma non può funzionare per i siciliani tutti. Grazie.